Cari amici dell'Istituto Parri, sono Emilio Ricci, Vicepresidente nazionale dell'AMPI e Presidente della Fondazione Corpo Volontario della Libertà. Volevo segnalarvi il mio e nostro interessamento per la vostra iniziativa, per la vostra attività che state svolgendo per la celebrazione del 25 aprile e del 75esimo anniversario della Liberazione d'Italia. Noi siamo per una condivisione massima su tutte le attività che difendano la memoria, che difendano la continuità della resistenza anche ai tempi nostri. Noi siamo, come voi sapete, una grande associazione, un ente morale che ha al suo interno un grandissimo patrimonio culturale, archivistico che raccoglie non soltanto testimonianze di partigiani, testimonianze sia documentali che scritte che anche verbali. Noi pensiamo che attraverso questo sistema la memoria debba essere difesa, debba essere aiutata, debba essere oggetto di una grandissima difesa nei confronti di tutti coloro i quali intendono non aiutarci a dimenticare questa grandissima storia del nostro paese. Il 25 aprile e il 75esimo della resistenza dovrà essere un momento di grande comunione di intellettuali, di gente, di persone, di militanti nel nome della difesa di questi valori. Io credo che l'iniziativa che l'Ampi porta avanti di cantare bella ciao, di sventolare il tricolore e le bandiere dell'Ampi alle 3 del 25 aprile sia importantissima per non dimenticare quello che è stata la resistenza e anche per aiutarci a superare questo momento molto difficile e molto complesso. Buonasera e grazie.